Ciao ragazzi, eccoci qua ritornati e come ho detto Five Nights at Freddy's Ok, iniziamo con il gameplay Ho poca luce, tranquilli, mi cagherò addosso Questo è il primo video che faccio con la mia bella faccia Sempre laggeggiando, scusate ragazzi Ok, ancora nessuno Iniziamo Ok Ok Ma quindi Sto pezzo di merda Ok, qua c'era Golden Freddy Apparirà prima o poi Guarda qua Arugazza stai? Scusate pelato, ma sono ammalato Ah ok No scusate Sto controllando perché certe volte metto il dito sul microfono Che cos'era? Ma perché l'infarti? Ma perché l'infarti? Si apro il portone Vai via Se mi piace Scusate Allora Ma大家好 Pado È una straстра Schettacace Ma se mi piace Questo ce la faccio Ce la facevo No 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 Cane Pecora Eeeh Qui ha il basso il volume Ok Ok Ho abbassato il volume Scusate se non si è sentito Ma Cos'è Cioè Ma Potete capire Allora Per favore giochino bello caro Tenero Spulciato Abbassa la paura per favore Ah Zitto Zitto Shish Sh Zitto quanto parlo Shop No Aspettate Che cos'è Che cos'è questa figata Che cos'è Che cos'è Che cos'è ma è l'unica che posso fare senza tua mamma no la vostra la loro ovviamente aggiustiamocene un attimo i capelli sennò assomi un barbone che stalla ho inquadrato la mia felpetta ok tutti calmi scusate se vedete un dito che si muove ok devo iniziare a spaventarmi no questo è manco uscito no aspettate dobbiamo controllare sempre d'occhio questa stanza perché c'è freddy perché dicono che possa apparire golden freddy cioè sarebbe una figura appanniamo tutto una figata se in questo video potesse apparire golden freddy allora tattiche oh e dai eh ok piccolo beatbox po' sai vedi ammessi la camera di mer ciò freddy tutto sapete quando tipo si snoda tutto quanto con figlio di puttana E' l'impasto, l'impasto, l'impasto L'impasto, 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 l'imp a chi c'è arriva più? Scusate cane 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 il mio nonno ci gioca meglio oooohh sembra te ah ho vinto forse di domani dai forse ce la faccio perchè ho chiuso non sto facendo tanti video poi aspettate non sto facendo tanti video più che altro perchè c'ho paura no perchè come posso dire c'ho la scuola più che altro che crei impegni è finito è finito finalmente ci manca veramente poco schiucca noi sei madonna santa che bello sei 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 e ho vinto in bocca in bocca in bocca no anzi non posso un buchetto penso penso abbiate capito no ok raga basta 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 avasht ok io direi che possiamo finire qua due partite sono state fatte avanziamo sempre di più col questa è la notte 5 faccio subito un altro video però lo caricherò più tardi se volete il prossimo quello è più pauroso noi ci rivediamo in un prossimo video e e se